Io lascerei subito la parola all'assessore, prego. Rapidamente, perché ho chiesto alla Presidente di inserire questo argomento all'ordine del giorno, perché domani a Firenze presenteremo questo festival dantesco. È un progetto che è in ponte da un anno, abbiamo cercato di curarne anche la comunicazione, per questo l'abbiamo un po' riservato alla gestazione in questi mesi, ed è un progetto, ritengo, di un buon livello, di un importante. Rientra in una strategia che dovrebbe vedere anche negli anni prossimi l'amministrazione in prima linea, nell'organizzazione del meno un grande evento di carattere culturale da tenersi in città. Io nel frattempo magari mi distribuisco il fattorno a quando facevo lo studente volantinatore. Si tratta di un'iniziativa che è nata sulla base del fatto che, come sapete, lo scorso anno è stato il 750esimo all'ivestero della nascita di Dante. Fra cinque anni sarà il 700esimo della morte, quindi si è aperta sostanzialmente una finestra temporale che è dedicata alle celebrazioni del poeta. Quando lo scorso anno ci siamo chiesti cosa fare per Dante, coinvolgendo Marco Sant'Agata, che è uno dei più importanti figliosi italiani della materia, abbiamo scelto di fare un evento che, anziché perdersi un po' nelle tante celebrazioni dello scorso anno, avesse una fisionomia forte, ma nel 2016, con l'intento anche di raccogliere i testimoni delle celebrazioni del 750esimo e di poi trasmetterlo in vista del 700esimo della morte. Quindi è stato definito un progetto che abbiamo portato avanti, come vedete, con una collaborazione forte fra le grandi istituzioni culturali della città. Quindi è coinvolta l'Università, in particolare il Dipartimento di Filologia e Literatura di Guifia, che cofinanzia il progetto. Sono coinvolti il Museo della Grafica e Palazzo Blu, che ospiteranno due mostre. È coinvolto il Teatro di Pisa, che devo dire fa poi il grosso del lavoro operativo e organizzativo, con uno sforzo davvero importante. Anche l'opera primaziale ospiterà nel Camposanto monumentale una delle rappresentazioni teatrali che saranno all'interno della programmazione, che è fatta sostanzialmente di una parte convennistica, tutta incentrata sul tema dell'attualizzazione della figura tantesca. Poi, appunto, di una parte espositiva articolata nella mostra a Palazzo Lanfranchi sulle opere grafiche di Tono Zancanaro sulla commedia. Noi abbiamo una grossa donazione fatta dagli eredi di Tono Zancanaro proprio al Palazzo Lanfranchi. E quindi in questa occasione viene presentata la città e peraltro la direzione del Palazzo sta, diciamo, progettando con l'Istituto Italiano di Cultura la possibilità di poi far, diciamo, circolare questa mostra anche con la sua rinunzione anche in Paesi Esti. E poi l'altra gamba della parte espositiva sarà la mostra di Scarabottolo, un illustratore ben vivo qui a Palazzo Blu. Poi ci saranno, appunto, queste tavole rotonde, dicevo, su una serie di tematiche diciamo, legate all'attualizzazione della figura tantesca, un percorso dei luoghi tanteschi della città curato da Franceschini, non il Ministro, professore, ci affidiamo agli specialisti. E un... Non è politico. Se non ci andavo io. Fabrizio Franceschini. E un... Politico. Com'è? Ero. Ero. rivolto una... Dicevo, queste quattro, tre rappresentazioni più reading fatti nell'ordine agli arsenali, al Giardino Scotto, all'SMS e per finire al Camposanto Monofutale. E la prima italiana della proiezione della copia restaurata della Mirabile Vision, un film degli anni venti che la Cinemateca francese quest'anno ha restaurato. Quindi hanno scelto di proiettare, diciamo, all'arsenale in prima anziché come avevano interamente programmato in altri importanti festival italiani. Quindi, diciamo, una programmazione importante, è stata già trasmessa alle scuole, ovviamente, oltre che, diciamo, in questi giorni anche oggetto di una campagna di affissioni. Poi, diciamo, partirà anche la campagna stampa, oggi c'è una inserzione su una pagina del Tirrello, nei prossimi giorni stampa locale e stampa locale. E' ancora in fase di negoziazione l'ipotesi di una diretta radiofonica su un rado 3 di una parte, della parte della città. Ci tenevo a comunicare, anche perché ora è importante promuovere una partecipazione della città. Quindi, nell'erogio dei banchi ci sarà l'installazione di una scena, credo, di Paolo e Francesca, dall'incisione di Gustavo Doré, fatta da Naturali, perché sono quelli che fanno gli allestimenti del museo della città di Calci e hanno fatto quelle grandi figure del teatro del Silencio, insomma, sono artigiani mirabili da questo punto di vista. Bene, grazie. Non so se ci sono domande su questo, se ci sono curiosità, insomma, penso che sia sicuramente un... visto così, diciamo, nel complessivo, ma anche nel dettaglio, mi sembra una programmazione estremamente accurata e curata poi da specialisti, insomma, del settore. Io, insomma, poi, avendo studiato qui le tre classiche, insomma, il Dipartimento d'Italiano, lo conosco... Beh, allora per te l'ingresso gratis... No, in realtà, l'ingresso sono gratuiti, ma sono a numero limitato, quindi bisogna prenotare gli inviti al teatro. Sono passata, ad esempio, dalle griglie... Lo diciamo subito per dire questa cosa... Eh, perché... Sono passata dalle griglie almeno di metà di loro, quindi, insomma, li conosco bene, insomma. Però, a parte questo, mi sembra che sia anche un ottimo... come dire, una collocazione, diciamo, anche temporale giusta, quella che, insomma, è stata data, perché poi è un lancio anche per il giudio pesante, un pre-giudio pesante, quindi, mi sembra che... Ricordo che il 27 c'è l'inaugurazione della chiesa della spina e della mostra di... Ecco. E della mostra di... Ecco. E poi il titolo, insomma, perché è un bel gioco di parole, mi sembra. Vedo che hanno giocato anche sul... anche post. Prego. Sì, ci sono chiesto, le scuole, in tutto questo... Se il corso, il suo lavoro... Allora, il PES come presidente della provincia ha indirizzato una lettera a tutti gli agenti scolastici della provincia, invitandoli a partecipazione. Poi abbiamo fatto richiesta, stiamo curando la richiesta di riconoscere la partecipazione dei conveni come credo formativo per gli insegnanti e forse anche, però questo è un po' più delicato, come dice, alternanza scuola-lavoro-lavoro-lavoro. ma compriamo con la partecipazione... C'è un lavoro, diciamo so. Oggi abbiamo... Fa male tra tutto l'uomo a quel punto, però ne prenderemo a... Alefico Maccio abbiamo ricevuto stamani di Dette, a un'altra... Comune. Prego. Sì, cercherò di vedere Dante come italiano se l'ha messo tenero, sì. Vabbè, sì, dai. Allora, se non ci sono altri... diciamo, ecco, cioè, se non vogliamo soffermarci ulteriormente su questo, possiamo passare al secondo punto, all'ordine del giorno. No, abbiamo scelto un posizionamento che... Devo dire che è una scelta che hanno fatto anche altri, per cui ho scoperto che c'è. Il Fork Festival, cioè... Poi non c'è una caratteristica, ma comunque un po' un po' diciamo affola. Però l'idea è quella di metterlo appena prima del giugno. Ora in generale cercheremo di... La settimana del giugno di... Era una cosa che era a metterlo appena prima del giugno. Eh, di allargarlo un po' verso maggio, verso luglio, in modo da... Allungarete. Allungarete di attrazione. Costi, diciamo, c'è un piano finanziario, è un'iniziativa abbastanza costosa. C'è anche una parte di contribuzioni di sponsor, ovviamente. C'è l'iniziativa. Certo.